salve amici siamo i giocatori per caso facciamo una sfida abbastanza veloce infliggi danno agli avversari da un veicolo ma innanzitutto iscrivetevi anche al nostro canale per fare questa sfida potete andare dove volete non è un problema l'unica cosa che dovete fare cercare un veicolo noi siamo andati a vivaio verdeggiante perché volevamo fare un esperimento ci chiedevamo ma se colpiamo le guardie le guardie aliene ce le dà o devono essere giocatori nemici quindi prendiamo subito una macchina e investiamo la prima guardia che troviamo adesso qua ci vuole di solito qualche secondo per l'aggiornarsi vediamo che succede e si ce le dà anche la guardia quindi se siete nelle curve che non sapete come fare venite qua a vivaio e investite tutte le guardie che trovate non solo potete sparargli da dentro un veicolo se siete in coppia uno guida uno spara e il problema è risolto tanto la da tutti al gruppo la sfida se siete da soli gli spostate mentre sparate guardate io adesso ci provo mi sto spostando e vado sul sedile posteriore e tanto sparo adesso c'è la montagna mi è andata male ritorniamo alla guida e ripartiamo intanto le sfide va avanti luigi probabilmente l'ha colpito riproviamo a spostarci qua mi sposto e muoio per il via del fuoco benissimo è andata male però la sfida me la data bene avete visto come si fa quindi o investite le guardie o sparate da un finestrino vi potete fermare andare sul finestrino e sparare oppure andate sul cassone posteriore vi muovete di posizione mentre la macchina si muove se questo video ti è piaciuto metti un pollice in su che per noi è un gesto bellissimo iscriviti al nostro canale e attiva la campanella per essere sicuro di ricevere tutte le notifiche grazie a tutti 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 grazie a tutti